Genova interviene Brescia per segnalare che la SPAL è passata in vantaggio grazie a una rete di Dabo quarantatreesimo Brescia zero SPAL uno Dabo a te. Attenzione Brescia che interviene per segnalare il pareggio del Brescia con Zemral. Brescia uno SPAL uno siamo arrivati al ventiquattresimo della ripresa Firenze. Quarto e ultimo minuto di recupero con il Brescia che segna con Zemral e questa volta è il gol. L'arbitro convalida.